Attenzione, attenzione, preghiamo al signor Matano di aggiustarsi la camicia e smetterla di importunare il pubblico. Ti vede, Frank! Attenzione, il treno regionale 9-15-21, proveniente da Bolzano, ha un ritardo di 180 minuti. Tipo Reba. Ci scusiamo per il ritardo. Attenzione, la signora Pellegrini è pregata di presentarsi in corsia al binario 4. Attenzione, la signora Maiocchi è pregata di ridere meno sguaiatamente dal binario 1. Attenzione, il signore Elio è pregato di recuperare il vitello dai piedi di bassa perso in corsia 10. Sta combinando troppi guai. Attenzione, chiediamo ai gentili giudici di essere generosi con il personaggio che sta per entrare. Buonasera! 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 Buonasera!